Nel 2021 di Mainetti, regista che ci ha sorpreso tutti con lo chiamavano Girobo, che nessuno si aspettava un film del genere, invece Mainetti ha detto sti cazzi lo faccio, e l'ha fatto, e può essere uscito con un progetto da 13 milioni di euro, una roba, penso uno dei film più costosi, la grande bellezza ne era costati 10, quasi, quasi 10 milioni, lui rincara la dose, infatti ci sono mille, cioè i titoli di testa non finivano più. Cioè a Regione Lazio, tutte le regioni che hanno contribuito, Mibact, Parifonti. Sì, quando ho visto la scritta Regione Lazio, ho detto qui a metà film salta la connessione. Ma poi c'era di tutto, veramente ha messo insieme un budget mostruoso, tra l'altro vi dico il film ad oggi su Cinetel, che comunque è una fonte affidabilissima, anzi a ieri, aggiornato al 10-11, quindi ieri, il film è arrivato a 2 milioni di euro, quasi 2 milioni di euro, 1 milione e 8. E niente, Mainetti fa questo progetto folle, quattro circensi in questo circo romano con, a quanto pare, degli ultrafoteri incredibili nella Roma della Seconda Guerra Mondiale, dopo l'armistizio di Badoglio, si ritrovano in questa Roma piena di nazisti, questo nazista pazzo, Franz, con questo circo di Berlino, li cerca, perché pensa che sia l'unica fonte di salvezza per il Terzo Reich. Perché noi sappiamo che lui vede il futuro, è preveggente. È preveggente, lui sa che quella è l'unica fonte per salvare tutta la baracca e non far cadere la Germania poi in quello che noi abbiamo visto, quindi il muro di Berlino, crisi varie, eccetera, eccetera. Questa è una storia molto semplice, una fiaba praticamente, una storia, una favola, chiamatela come volete. Ovviamente faremo spoiler, quindi chi non ha visto il film si tolga dai coglioni, con rispetto, con simpatia. Però, siccome non vogliamo rovinarvi la visione del film, se non l'avete visto, andate via. Che bisogna dirlo, che il film piaccia o non piaccia, e adesso ne discuteremo, è un film che oggettivamente va visto, perché è un film clamoroso dal punto di vista produttivo, è una produzione folle, è un colossal per noi. Diciamo, se se fanno delle modifiche automobilistiche andate via. Esatto. Praticamente è un colossal, un colossal hollywoodiano per l'Italia praticamente. Sì. È stato uno sforzo di mille enti, con un distributore che è 0-1, ma con veramente mille coproduttori, soldi arrivati da ovunque, e coproduzione con il sempreverde belgio. Che devo dire che sta dando tanto territorio al cinema italiano, anche il primo re era una coproduzione belgio, quindi anche loro si gettano in queste parentesi di cinema di genere strano italiano. Grazie belgio, se vuoi finanziare anche noi, schifo non ci faccia. Se vuoi entrare in live belgio, noi siamo qua, soprattutto al belgio che entra in live. Poirò, direttamente Poirò viene. E quindi io, allora, io l'ho visto di recente, in realtà l'ha visto ieri, mi ha detto, però il primo in realtà che l'ha visto è Carlo, che era inviato, Inviato speciale. Inviato speciale. Inviato speciale, pagato da lui stesso. A quello sì, dai poteri forti. Dai poteri forti. Da Mario Draghi, direttamente, ha distruggito il stesso. Io ero alla prima, io ero alla prima assoluta per il pubblico di Freaks Out, con tanto di mainetti. La Kermess, Kermess. Era la Kermess, era anche vestito tutto bello, tutto incomatato, tutto impettito, perfetto. Bene di fuori, pronto. No, 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 si dice, no, 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 assolutamente no. È la base, la base della Kermess. No, no, no. Solti e spendoni. Ciao, festival di Venezia. Ciao, festival di Venezia. Ciao a tutti. C'erano tutti, mainetti, Santa Maria, non mi ricordo se c'era Franzi, il nazista mitico, comunque il mio personaggio preferito. Tutti c'erano, anche quel coglione di Castellito, no, scherzo, no, però mi stai antipatico, vabbè, ci sta. Allora, io l'ho visto, ero contentissimo di andarla a vedere, perché io ero innamorata alla follia di... Lo chiamavano Gigrobo. Lo chiamavano Gigrobo, per me era un film magnifico, straordinario, bellissimo, uno dei film più belli degli anni 2000, probabilmente, in Italia. E quindi io, contentissimo con Freaks Auto, sono entrato con tutta la voglia e il bene del mondo verso Mainetti, con la fava rittissima, sono uscito moscissimo. Nel senso che io mi sono proprio... Vuol dire che avevi eiaculato, comunque, nel frattempo. No, 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 è proprio... mi ero spento, mi ero spento e mi ero rotto i coglioni, perché sono due ore e venti, due ore e venti, di gente che urla, di esplosioni, di musica a volume fotonico, forse, dato anche dal fatto che io ero in un posto bello, ma non bellissimo, quindi vicino alle casse, quindi ero continuamente tartassato dal rumore. Una macchina... Pompone le casse, proprio tipo il pagante. Mi sembra che fosse il pagante, vabbè, non mi ricordo. Il passo che devasta... Niente, la facciamo stare. Pompone le casse, questa macchina da presa, cazzo che non sta mai ferma un secondo, volevo morire, stavo per vomitare, mi serviva un sacchetto. Io questo film non è che l'ho odiato, perché comunque ci sono delle cose molto belle, ma ecco, se Scorsese ha parlato di film Marvel come Luna Park, come theme park movie, ecco, non sono i film Marvel un theme park movie, questo è un theme park movie. Cioè è una giostra enorme, enorme, che secondo però, secondo me, senza quel minimo di delicatezza e dolcezza e capacità di bilanciare i vari elementi che rendeva Gigrobot così straordinario e perfetto, ecco, e iconico, e bellissimo, e dolce. Non ho trovato dolcezza in questo film, ho trovato proprio la voglia di far cacciare. Ma quindi, se, ora, noi non lo facciamo perché non siamo ad enormi del cazzo, però, perché l'UCP è unica, siamo come vuoi vanilla, no? Però, allora, se tu dovessi dare un voto così, per capire il tuo livello di incazzamento col film, da 1 a 10, quanto gli daresti così per una butata? 7 più, perché comunque... Ah beh, cazzo, ne hai parlato come fosse una merda colossale! Ma è perché un conto è... Io penso che, pensavo di dargli un voto addirittura più alto di te, e invece c'è un voto più basso e 0. No, metto 7 perché, tecnicamente, il film è straordinario ed è importantissimo per la nostra produzione, per la storia produttiva del nostro paese in Italia. E poi il film, ripeto, non è fatto male dal punto di vista tecnico, secondo me, dal punto di vista concettuale, personalmente, per come vedo io il cinema, e per quello che io mi aspettavo di Mainetti, è un film sbagliato. Però non è fatto male, cioè, è come Candyman, a me Candyman moralmente mi fa schifo, per me è un film sporcamente razzista, ok, l'ho già detto. Ma non posso dire che è un film brutto, o un film orribile, o un film che non si può vedere. Cioè, io non faccio... non sono così stupido da non riuscire a discernere tra ciò che secondo me è giusto e ciò che effettivamente è bello. Cioè, io non sono uno di quei mongoloidi che dà una stella a nascita di una nazione perché parla bene del Ku Klux Klan. Cioè, io non sono così. Dato che apprezzo... cioè, sono aperto, apprezzo anche... cioè, riesco a riconoscere il valore intrinseco anche di qualcosa che magari può non essermi piaciuto tanto, come Freak South. Ok. Onesto. E invece, signor Elmi, che io gli ho detto... no, spiegano. Perché io, Ale, o guardiamo un film e fa cagare entrambi, o piace entrambi, e quindi siamo tutti... odio che bel film che abbiamo visto, tutto bellissimo. Oppure, ma che merda, tipo Malignant. Tipo Malignant, ecco. Esatto. Oppure, se uno dice questo film mi piace tutto e l'altro no, c'è del delirio. Il delirio... E questo? La nostra dialettica. Ed è questo il caso? E io gli ho detto, guarda, Ale, io gli ho detto, guarda il film, perché secondo me è molto carino. Io l'ho visto e mi sono emozionato, ho riso, ho pianto, tutte le emozioni ho provato. Ho detto, se li fa cagare questo mi ammazza. Quindi, voglio sapere, cosa ne pensi del film che hai visto? Allora, la premessa è che tecnicamente mi è piaciuto per certi versi, per altri invece non l'ho apprezzato fino in fondo, e di questo però vi parlo tra poco. Con 12 milioni, un film così comunque in Italia, è un mezzo miracolo. Questo mi è conosciuto, perché sono tantissimi per quanto riguarda il cinema italiano, ma questo film tecnicamente, a livello puramente di effetti speciali, c'ha delle macchiette qua e là, ma sono cose che non si notano neanche. A production value altissimo. Io ho l'occhio da stronzo, che magari faccio caso a una scena in cui è stato scontornato un po' meno bene un personaggio, ma comunque sono cose che si ritrovano tranquillamente nei film di medio gamma della Marvel, che magari costano 150 milioni. Certo. Questo film, come dire, a livello di industria, vale come un film che dall'altra parte magari costa 12 volte. A voi. Il miracolo tecnico è quello, sicuramente. Non mi piace da un punto di vista. 14 milioni di dollari. Di euro. 14 in totale, ok. Non mi è piaciuto, diciamo, non è che non mi sia piaciuto fotograficamente, però ho trovato molte riprese poco intenzionali. Cioè ci sono, quello che diceva prima Carlo, non è secondo me sbagliato, perché la videocamera delle volte si muove in maniera, secondo me, poco sensata. Non perché sia brutto, magari uno scorrimento laterale, un'inquadratura che si muove, in cui si vedono parti della scena, le ambientazioni, però sembrano un po' come dire... Gratuite? Gratuite, sì. Poco intenzionali, quello che stavo cercando di dire era quello fondamentalmente. Quindi non ho visto un occhio di regia particolarmente dotato, ecco qui dietro. Questo non vuol dire che questo film comunque non mi sia piaciuto, perché al di là della tematica che tratta, forse quasi di reggetto, mi sarebbe piaciuto troppo se non avessi avuto un po' di senso critico verso me stesso. Perché comunque parla di nazisti, di partigiani, per me, come dire, sono legato molto anche emotivamente alla storia della resistenza in Italia. Mi sembrava quasi troppo facile, come dire, apprezzarlo e ho avuto un riflesso che un po' mi ha contestualizzato, forse al contrario di Carlo, che dice, ma io questo film per motivi ideologici non mi è, come dire... Di gusti cinematografici più che morali, diciamo. Moralmente non... Che è che non goda a vedere i nazisti che muoiono? Ah beh, c'è... È divertente in ogni caso, cioè... È divertente in ogni caso, però in questo film non mi ha convinto così tanto. Il film, ripeto, mi è piaciuto comunque perché è un film che funziona molto bene, scorre, intratiene, ci sono scene di azione molto... Fate molto bene, facciamo spoiler, la scena stessa del combattimento finale, la sparatoria, è girata... Mostruosa, mostruosa, incredibile. Anche a livello di valori di produzione uno si chiede come... Che miracolo abbiano fatto per buttare in scena tutte quelle cose contemporaneamente, perché cost... Cioè nel senso c'è un costo di produzione minimo che può girare anche in film in Ungheria o nel paese più sfortunato, dal punto di vista lavorativo, è difficile abbassare i costi di... O almeno trovare le scamotage giusti per costruire e arricchire una scena senza che il portafoglio, come dire, venga completamente... Prosciugato. Prosciugato. Quindi non l'ho odiato, mi è piaciuto, sono contento di averlo visto, sono contento che sia stato girato. C'ha delle cosine che non mi piacciono, c'ha un mucchio di cliché, c'ha un mucchio di scene che sono riprese pari pari da mille altri film già fatti, già visti e già sentiti. Non lo so, mi ha lasciato un pochino in dubbio quando sono uscito dalla sala, perché da un punto di vista puramente, come dire, meccanico, avrei dovuto dire questo film qui mi è piaciuto, come dire, mi ha colpito, ah che bello finalmente avere un film di questo livello in Italia. Un po' però di riflesso sono diventato critico. Alessio ha detto che mi è piaciuto perché effettivamente è così, però non fino in fondo, ecco. Ci sono delle storture che non sono riuscito ad accettare. Seino ci arriva, per dire. Sì, 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 anche se è un mezzo, sette meno. Per dire, c'è così tanto, dopo dei voti, possiamo anche infidare allegramente nel culo, però era così per capire un attimo. No, no, certo, certo. È un film che sono contento che sia stato fatto, a differenza di altre produzioni italiane che ho visto recentemente, di cui comincerò a parlare perché vedo già Alessio che... No, perché poi verrà colui che... Cioè, c'è la conferma. Ok, ok. Quindi, però, vabbè, questa sarà una cosa che discuteremo magari in privato, ma... In secondo luogo, sì. Esatto. No, allora, io personalmente aspettavo sto film abbastanza curioso perché il progetto, appunto, di budget altissimo. Poi le prime immagini che vedi del film era sta Roma mezza polverizzata dalla guerra. Questi flicks si muovono e mi dicevo, boh, che cazzo vuol fare Mainetti, un altro film a supereroe? In effetti sì, alla fine sì, ha fatto un po' la stessa cosa. Un film supereroistico, alla fine. Però non mi aspettavo... Io mi aspettavo che mi facesse più cagare, cioè che mi facesse schifo, in realtà, il film, perché... Ah, ok. Sì, no, perché lo vedevo interessante, ma tronfio, no? Le cose troppo tronfie tendono poi a cadere e a fare un sacco di rumore. Questo film è tronfio. Il film è tronfio, lo ammesso, è tronfissimo. Sono d'accordo, ci sono delle scene che mi hanno fatto letteralmente cagare, tipo, quando lei alla fine diventa un X-Man, troppo. Ho sbaccato il tutto, troppo. Secondo me ha esagerato volutamente, ci sta, ma no, troppa, troppa roba. La scena dove lei si trasforma, e poi la scena di battaglia è spettacolare. Però quando lei si trasforma, diventa praticamente energia pura, lì un po'... E lì è chiaramente... Lì è Dark Phoenix, lì è chiaramente... Sì, esatto, cioè mi ha fatto un po' stargiare il naso e ho detto, potrebbe risparmiarsi da tutto questo casino. Però, alla fine, è un film che veramente, sarò buono di cuore, sarò il cazzo che volete, come direbbe il Diaz una fighetta. Però il film, a me, ha emozionato. Perché alla fine si parla di gente strana, stralunata, che cerca solo il proprio posto nel mondo perché non è come gli altri. Né fisicamente né mentalmente, in alcuni casi. E quindi riuscite a emozionarmi. Più mi ci metti di mezzo. I nazisti che esplodono come petardi. Santa Maria che li prende, li dilania. Santa Maria è enorme, sto film, è gigante. Già lui è grosso, sto film è enorme. Cioè, proprio, è altissimo, è potentissimo. Sì, posso dirvi che confermo che Santa Maria in real life è enorme. Beh, esatto, lì è ancora più grosso. Ho fatto, come è possibile? Un uomo gigantesco e quindi sbriciò ai nazisti. E quindi a me non può che esaltarmi. Mi ci metti Franz. Perché quando l'ho visto ho detto, io... Perché mi piace questo personaggio che è un nazista di merda? È bellissimo, ragazzi, quel personaggio lì è veramente figo. Cioè, cosa ti puoi dire? Stralunato, pazzo, strano. La cosa palesemente migliore di tutto il film è che, secondo me, lo salva. In maniera assolutamente... Lo fa salvare in maniera tranquillissima. È proprio il design, le motivazioni e com'è caratterizzato il modo in cui si interfaccia con il suo mondo il personaggio di Franz. Sì. Che è completamente opposto a quella Mary Sue di merda che è Matilde, mi sembra si chiami. Sì, sì. Che è la Mary Sue di merda. Io Franz. A parte che mi sono accorto dopo, e qua andiamo un po' più nello specifico, che le canzoni che lui suona al piano sono canzoni della nostra contemporaneità. Io per te non me le raccordo. Prima dei clip dei reati. Esatto. Che lui fa, e lui fa questa musica di merda, che cazzo è, sperimentale, strana. E io ho detto, cazzo, ma questa è la musica nostra. Cioè, se me sono accorto dopo, perché ero totalmente affascinato da questo personaggio con sei dita, che poi è nazista con sei dita, vabbè, asciam perdere. E poi c'è quella tuta dell'Adidas, che non esiste ancora. No, in realtà, in realtà mi sa di sì, perché l'Adidas è tedesca. Non so se lo sapevate. Ma Adidas è nata, mi pare che sia nata, no, aspetta, nel 49. Però il CEO di Adidas, se non ricordo male, c'ha avuto dei casini relativamente al passato nazista. Ah, sì, ma a me ha fatto ridere, lui c'ha questa tuta nera, con le classiche linee dell'Adidas. Sì, sì, comunque c'era anche durante il nazismo. Sì. Perché ottenne subito un grande successo, l'azienda ottenne subito un grande successo, guadagnò la ribalta internazionale già durante i giochi olimpici del 36. Qui dice, equipaggiando Jesse Owens, ma immagino che non fosse esattamente il puntore a questi uomini. Però lui gira con sto mantello, tutto nazistificato, che fa schifo perché quei simboli lì sono avverranti, ma è talmente di scena. Questa Nike, questa Adidas nazista, con il logo qua, che però è una tuta moderna. Cioè, nell'accezione moderna. C'è uno che si vengono adesso tra i conti. Il contrasto è quello, sì. È veramente... È un po' slab. All'inizio mi faceva un po' cagare, tipo quando ho visto il joystick disegnato, ho detto... Il joystick è orribile, sembra un prop della casa di prezzemolo di Gardner. È vero. È terribile. Ho detto, mostra a vedere che merda è questa, raggi nel tempo. E invece anche la tematica delle visioni, delle allucinazioni, alla fine non fa mai male. E poi, ragazzi, io ho amato la follia, quei cazzo di partigiani freak. Stupendo. Fuori di testa, chiamateli macchiettesi del cazzo, ma me mi hanno gasato. Non ci posso fare niente. Quando vedi il gobbo così incazzato come una belva, sarà macchiettistico, ma a me mi ha gasato. Sarà perché sono comunista dentro? Non lo so, può essere. Però a me mi ha gasato. Cioè, il film alla fine è riuscito nel suo intento. Mi ha intrattenuto due ore e un quarto e non l'ho sentito per un cazzo. C'ha delle belle musiche. C'ha una regia che, sì, si lascia un po' andare in alcuni casi, forse troppo esagerato, sono d'accordo con voi. Ma alla fine riesce a portare a casa un film dignitoso, intrattenente, divertente. Che a me, personalmente, anche emozionato, mi ha fatto scendere la lacrimuccia. Quindi, secondo me, se questo sarà il nuovo canone, che non lo sarà mai, perché 14 milioni col cazzo che gli danno a me, ora a Manetti, sarà fermo per un bel po', secondo me. Spero di no, però credo di sì. Sicurarsi che vada bene con la distribuzione. Speriamo che vada bene all'estero, se lo vedi. Secondo me, è un prodotto che funzionerebbe meglio all'estero che in Italia. Vedendo le recensioni idiote degli statunitensi, che come sempre non capiscono una sega, e beh, ho capito, però è uno dei metodi più importanti. Io aspetto sempre la Francia al barco che tiri sui nostri prodotti, perché ormai... Allora, io su questa cosa posso dirvi una cosa. Vediamo. Io, il giorno dopo aver visto Freaks Out, si era andata a vedere degli altri film, e prima di una proiezione ho incontrato Gabriele Gnola, di cui avevo fatto anche la photo di qui ti avevo parlato, Ale. Sì, critico, per chi non lo sapesse, è critico al cinema. Critico di Bad Taste, bravissimo, simpatico. Molto simpatico come persona. Assolutamente un pezzo di pane straordinario, e anche molto competente, molto intelligente, pur non essendo io spesso d'accordo con lui. E mi ha detto una cosa, mentre parlavamo, dato che si è stati anche dieci minuti a parlare un po' di Freaks Out e di altre cose, mi ha detto una cosa di Freaks Out che secondo me è interessantissima. Ovvero, sicuramente non rientrerà nei costi. Mai. Sicuramente è un progetto insostenibile per l'industria, ma non lo è ora. Nessuno ci dice che questo non possa essere la prepista che permetta all'industria in futuro di realizzare davvero prodotti di questo genere. E mi ha fatto un esempio di Sollima, di Sollima che quando aveva prodotto Romanzo Criminale, cioè quando aveva realizzato Romanzo Criminale e la serie, aveva riposte, no, Romanzo Criminale e la serie, ah la prodotta, la diretta, la diretta, non la prodotta, la diretta, Sollima, Sollima, no, quale è Gomorra, no, quello, no, non ha dire Gomorra, quale è Gerrone, sì, il film è di quella serie, no, il film è di Placido, di Placido, no, Placido ha fatto Romanzo Criminale il film, eh, sì, io intanto sto prendendo i tipi, allora Gomorra, Gomorra l'ha fatto Romanzo Criminale, la serie è di Stefano Sollima, eh, non mi rompere, no, Gesù, Gesù, no, cazzo, no, 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 ce l'avamo capito, dicevo, anche Gomorra l'ha fatto a Sollima, mentre invece Suburra, di chi mi chiedeva? Suburra è il film sempre di Sollima, la serie non mi ricordo, la serie non mi ricordo, eh, il film, allora, la serie di Romanzo Criminale, ok, aveva richiesto di utilizzare, Jesus Christ is coming, io mi sto arrabbiando un sacco, allora, eh, in Italia, dato che noi eravamo avanti, nel 2008, 2007, quando cazzo è uscito Romanzo Criminale, avevamo ancora i, è presente quelle specie di petardi che ti fanno esplodere le sacche di sangue, ecco, ecco, ai tempi noi non ce l'avevamo ancora a wireless, ce l'avevamo ancora col cavo, Sollima giustamente ha detto ragazzi, siamo nel 2008, diamoci una svegliata, è andato alla società di Props e ha detto no, figa, non penso abbia detto figa perché è romano e non bresciano, però il senso è quello, ha detto compratemi per favore quelli wireless, tacci vostra, tacci vostra, e da lì in poi tutte le produzioni italiane fondamentalmente che si sono legate a questa società di Props ha sfruttato i wireless, quindi ha fatto fare un passo in avanti all'industria, ha detto a nessuno, nessuno impedisce a Mainetti e a Freak South di poter essere una prepista per l'industria, un traino per l'industria, e quindi è una cosa secondo me bellissima. Poi per tornare ai due commenti che ha fatto secondo me Alessandro, molto molto belli e molto giusti, sono su Franz, perché se noi ci pensiamo come dice assolutamente in maniera giusta Alessandro, Franz è patetico, patetico nel senso letterale, di pathos, è un personaggio straordinario, cioè è un nazista che sa perfettamente che Hitler fallirà, ok, e che dice a tutti che Hitler fallirà, e per questo devono prendere questi super uomini, ma non viene capito, proprio perché dice la verità che nessuno però vuole sentirsi dire, e in più è un freak lui stesso, che cerca solo l'essere accettato, l'approvazione del fratello e della società tutta, e invece nonostante lui ci provi, nonostante sia uno showman, nonostante abbia forza di volontà, nonostante riesca, abbia un talento straordinario, abbia la capacità di creare un cerco bellissimo, una tigre gli piscia addosso, lui scivola e viene preso in giro da tutti, in quel momento, pur essendo lui un nazista bastardo, provi davvero pena e dispiacere per Franz, e poi l'attore è clamoroso e di una bravura straordinaria, poi con quella specie di nespola, mamma mia, bravissimo, quello è chiaramente secondo me la parte più bella del film, più dei partigiani che sinceramente mi hanno fatto scendere molto le balle, proprio perché sono delle macchiette, un po' come tutti i personaggi, basta vedere Castellito che è Totti negli anni 40, Oh, non toccare pupone! Cosa? Ricordiamo la battuta più brutta del film, pronunciata da una delle partigiane, che nazisti, giochiamo a fa la guerra? Sì, bruttissima, proprio, ho capito che siamo nella Roma degli anni 40, però siamo a livelli davvero, vabbè, lasciamo sta, hanno rotto anche un po' di Romagna, Utilizza le battutine con un eccesso insopportabile, ma va bene così, il signor Balbi, chi doveva capire ha capito, Vedremo, e questo dicevo fondamentalmente, poi ripeto, cioè, lei, Matilde, no, è Mary Sue, c'è nel senso, cioè, tutta la profondità che è andata a Francia non l'ha andata al personaggio principale, cioè, se la cosa bella di Gigro Bono è che noi avevamo un personaggio che all'inizio utilizzava i suoi superpoteri per il male, solo per il proprio tornaconto personale, e dopo però incontra Elena Pastorelli che gli insegna ad amare, essere più innocente, essere più aperto e pensare al bene della collettività, e Elena Pastorelli mi sembra Moe in Gigro Bono, se non sbaglio, si, si, muore alla fine, no? Sì, sì, sì. Ecco, e dopo lui allora supera questo trauma e decide di diventare effettivamente superiore e buttarsi giù in strada con la maschera che gli ha regalato, cioè, c'è una profondità incredibile, Matilde. È mezzo patto, però, dai. Eh, ho capito, però è fatta bene, cioè, è vero che è un rimescolare di elementi già fatti, ma a me non mi interessa, cioè, mi interessa che un film sia coerente, fatto bene, abbia un'evoluzione, cioè, sia strutturato in maniera di Cristo. Qua il personaggio è Riley di Sky, è Riley degli ultimi Star Wars, cioè, arriva a questo pseudo problema, a questo dono, lei non riesce a controllarlo, dopo riesce a controllarlo, non si sa come, proprio nel momento in cui serve di più, quindi anche lì, comodità, comodità incredibile, cioè, poi è sempre buona, nonostante tutte le cose che le succedono, comunque lei è sempre, non fa mai la scelta sbagliata, è sempre pronta a resistere, risolve tutto, risolve tutto lei, ci pensa tutto lei, insomma, mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto il cazzo. Non ha convinto neanche a me, però non sono, qui sembra che voglia fare polemica per forza, però... No, 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 non fai polemica. Non sono proprio d'accordo con la tua descrizione del personaggio, perché comunque anche lei ha un arco evolutivo, lei è spaventata dai suoi poteri, cioè, fin dall'inizio si capisce proprio che lei non vuole, non vuole avere contatti con altre persone, ha paura di toccare le altre persone, ha paura di agire, perché ha paura di uccidere, e rifiuta di uccidere anche le persone, che insomma dovrebbe tendenzialmente, per comodità, far fuori anche per giustizia. Quindi, cioè, nel senso, c'è un'evoluzione... C'è un'altra corretta. ...da questo punto di vista, non è sbagliato. Non mi ha convinto fino in fondo, però devo essere sincero, come tante cose in questo film, sulla carta dovrebbero funzionare. Nella... Come dire, una volta che l'ho visto, l'ho visto al cinema, non mi ha convinto. Cioè, sulla carta doveva funzionare questo personaggio, secondo me, perché... Come dire, si vede che... Però sai cosa? Anche il finale, no? Quando i suoi poteri esplodono. Tralasciando che secondo me è volutamente una sorta di olocausto ribaltato. Sì, probabilmente sì. Nel termine stretto di olocausto, vuol dire bruciare tutto, no? Certo. Cioè, il fuoco di tutto. Certo. Questa fondamentalmente ritira addosso ai nazisti le camere di combustione. È una scelta, come dire... Certo. Non voler spiegare la natura della storia. Facendolo poi ambientare vicino a un treno, il parallelismo è ovvio, certo. Ah, tra l'altro, buco di sceneggiatura... Io non sono uno di quelli che solitamente sta attento a queste cose, però c'è un buco di sceneggiatura enorme. Quel treno... Come faceva una sfera che c'era l'Israel? Per dire, così... Così, per senza infusa, lo sanno. Lo dice lui. Lo dice lui mentre sono sul camion. Cosa dice? Mi portano a stazione, eccetera, eccetera. Ah, gli avevano detto della stazione? Sì, sì, sì. Ah, basta allora. Che poi lui dice, no, è solo qua per il suo cappello. La ragazza ha perso il cappello. Ah, non mi ricordavo che gli dicesse il posto. Io pensavo che gli dicesse... Mi stanno portando... Cioè, non mi ricordo... Su un treno, punto, non mi ricordo. Allora, richiro questa cosa. Cioè, mi stanno portando alla stazione Tiburtì, non so cosa. Ah, ok, basta. Allora, sciami. Sì, è un quartiere dove praticamente radonevano tutti gli ebrei. Ok, allora ritiro questa cosa qui. Comunque no, al contrario di Penny, che diceva la Scenics, ma mi ha fatto schifo invece, a me quella è proprio piaciuta. Perché è lì che è giusto che la situazione esplode e deflagri e ci sia effettivamente il climax, ci sia l'acme. Lì è giusto che ci sia. Il problema è che l'acme c'è per tutti. Attenzione, il greco. Eh beh, l'acme è la punta, è il momento clou. Il problema è che tutto il film è il momento clou, nel senso che non c'è un momento, diciamo... Ti dici che non c'è respiro. non c'è respiro secondo me c'è tanta delicatezza esempio secondo me la scena più esemplare sotto questo punto di vista è quando lui ha la visione quando Franz ha la visione e vede Hitler che muore e vede tutto il futuro quella scena è tecnicamente e concettualmente bellissima secondo me quando vede la fine quando vede tutto il futuro e c'è il telefono quella è una scena di cui dicevo prima in cui dicevo prima si notano un po' di scontornature fatte male però sono io che sono malato ok secondo me quella scena è rovinata da un elemento che è pacchiano ed è proprio antiestetico il game over urlato e scritto in maniera titanica è proprio pacchiano ecco questo film per me è pacchiano proprio non ci posso fare niente è proprio infatti avevo letto un'intervista sempre su Bad Taste molto interessante in cui mi sembra Gabriele Neola che intervistava diceva è perché questo questo film tanti l'han criticato cioè dirà forse potrebbe non piacere perché è a no cos'è diceva è a troppe cose o è poco a fuoco non mi ricordo non mi ricordo e lui diceva è no in realtà è il film che è tanto solo che sono voi spettatori che non riuscite a contenerlo una roba del genere tipo ciao Davide ciao Davide al pesca magico magico e volevo dire sì è vero ma anche Transformers è troppo per uno spettatore e non riesce a sopportarlo ciò non vuol dire che sia bello necessariamente il fatto che sia troppo un film il film dovrebbe avere è come una ricetta è equilibrio è equilibrio a meno che il film non rifletta proprio sulla mancanza di equilibrio e lì ci sta ma il film non mi sembra che voglia riflettere mentre ci sono un film di solito c'è troppa roba a cuocere sul fuoco o per mettere a bruciare qualcosa e se una parola lì a me venga esatto quindi ecco per questi motivi non mi è piaciuto tanto secondo me è riuscito a fare un buon film cioè alla fine ma è cioè ora ha fatto due film cioè in realtà ha fatto anche io ho visto bravi ma inetti ah ecco no volevo dire no l'è andato via un secondo perché posso dire questa cosa che secondo me è molto importante dal punto di vista proprio della grammatica la macchina è bene che si muova quando ha un senso se si muove sempre è come se non si muovesse mai cioè tutto il senso lo si perde ok è come l'uso del rallenty orrendo che fa Snyder cioè il rallenty ha senso metterlo in alcuni punti se lo usi sempre è come non usarlo cioè vuol dire essere proprio ignorante dal punto di vista della grammatica non so come dire quindi non sono d'accordo però sul rallenty di Snyder e poi cosa? non sono d'accordo su quello che hai appena detto sui rallenty di Snyder ok hanno un motivo più che più che paleso secondo me sì far capire quanto è figo lui no sottolineare l'ultimo film Justice League Snyder Cut è un filmazzo rallenty edition dici? sì rallenty edition ok però nell'ottica del come dire di quello che voleva voleva fare comparire in scena Snyder cioè una pagina di un fumetto funziona benissimo secondo me sì peccato che non ha senso in un film perché è un'immagine praticamente però non puoi farlo al cinema c'è una strazzata quindi esteticamente è bellissimo qui invece ci sono delle riprese che ricordano le riprese di un'agenzia immobiliare per certi versi cioè ti faccio vedere tutto ti sbrodolo tutta la scena in movimento però poi non c'è un motivo per cui la camera mi sta facendo una sliderata su gli oggettini che ci sono nella scena se non ti fa vedere che ho speso dei soldi per mettere gli scheletri sui tavoli cioè sì è vero no questo film cioè Freak's Out secondo me è davvero troppo e ripeto mi dispiace perché io a Minetti gli voglio un bene dell'anima però secondo me si sono fatti prendere proprio la mano e presente quando ti gasi e dici facciamo questo ok l'abbiamo fatto e ci aggiungiamo questo e ok e dopo ci facciamo è minestrone è proprio un minestrone e in ogni minestrone c'è qualcosa che viene molto bene e altre cose che rimangono in sapore che rimangono poco cotte non so poco sviluppate e il film secondo me è un po' così ma secondo me allora che è troppo nel senso che magari sborda esce fuori dai bordi sì lo ammetto anch'io però se lo guardiamo nell'ottica del regista che comunque ha fatto sia nei corti che sono molto carini soprattutto quello ispirato a Lupin mi ha fatto un po' di dalle basette sì basette sì molto bello o l'uomo tigre tiger boy scusate cioè per me ha continuato il suo discorso che poi ha ampliato in gigroboy in questo l'ha ampliato tantissimo il discorso dei supereroi del superuomo proprio nel senso del fumetto che poi alla fine non è un superuomo è un uomo normale che magari ha qualcosa di più ma poi resta sempre un essere umano perché i nostri flessi in realtà sono umanissimi sì Claudio Santa Maria o uomo lupo chiamatelo come volete dipende il cranio te lo gira te lo spacca cosa che una persona normale non potrebbe fare a meno che tu non sia McGregor che tira un cazzotto e alza in alto la mano sono il tuo capitano però alla fine sono comunque persone normali che lui sebbene vede in questa attica di superuomini hanno le loro pecche hanno le loro difetti hanno le loro paure hanno i loro cazzi comunque come c'erano tutte le persone e secondo me nonostante sia pieno la macchina vola anche troppo e sono d'accordo con te riesce comunque a mantenere il punto sul discorso che fa mettendo i freak a confronto uno con l'altro mostrandoci questa sì che può essere una cosa banale per carità di Cristo ci sta però alla fine riesce nel suo punto mostrarci quest'ambiente mostrarci questi freak mostrarci come noi possiamo interfacciarsi a loro e comprendere entrarci in empatia e alla fine riesce a fare questo lo fa un po' troppo forse sì forse i partigiani sono troppi sono troppo però per me sono anche troppo fighi perché mi piace con l'estetica un po' però posso dirti una cosa i partigiani quello che dici sulla sulla delicatezza sulla drammaticità sulla bellezza è vero in un personaggio che infatti è secondo me una delle cose più belle del film insieme a Franz che è il personaggio di Tirabassi non pensavo di avrei mai detto che Tirabassi sarebbe stata una delle cose migliori che sarebbe il nano no Tirabassi no Tirabassi è Israel a Israel è il capo della banda diciamo il capo del circo il capo circense il capo circense e secondo me lui è il nucleo proprio drammatico nel senso letteralmente melodrammatico del film ed è bellissimo ed è delicatissimo nel suo modo di parlare nel suo modo di trattare i freak nel suo modo soprattutto di parlare con Matilde o Matilda non mi ricordo è bellissimo il problema è che per ragioni di tramo ovviamente si vede a parte l'inizio 5 minuti lo vedi in due scene lo vedi alla fine dove muore quindi ti spiace anche lo vedi dopo sul tre e sulla camionetta e basta cioè lì era il punto in cui effettivamente il film era delicato era bello cioè aveva la funzione diciamo del linea pastorelli non so come dire capisci in un certo senso ecco non so mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto ripeto a me piace Mainetti quando riesce a tenere equilibrate tutte le cose qua secondo me non ce l'ha fatta però lo stimo lo stimo perché è un grande una cosa che mi ha dato fastidio parlando di delicatezza di temi come dire emotivi ci sono un paio di momenti nel film in cui viene fuori una musichetta che francamente mi ha mandato dei vibe di Pinocchio di Garrone mi danno fastidio un casino le colmine sonore da film per bambini e sono non perché siano brutte in sé per sé ma perché sono talmente uguali talmente banali talmente si è vero io non ce la è un carillon ora durante una live su su chi era Pirati dei Caraibili Verbinski Verbinski ho detto che quel carillon lì funziona benissimo perché è iconico suo questo invece è un carillon che non sa di una mazza è proprio banale è anonimo è anonimo da fastidio e ti viene mi è venuto un rigurgito in quel momento lì mi è piaciuto tanto per altri motivi anche il personaggio di Israel che mora alla fine per esempio non l'ho sopportato non l'ho sopportato in generale una trama che secondo me segue talmente tanto degli stilemi del genere che alla fine ti sembra di aver visto un remix di altra roba fatto bene bellissimo mi è piaciuto non mi ha convinto non mi ha convinto proprio per questo perché anche i personaggi dei freak alla fine secondo me non sono poi così freak perché anche Santa Maria è tutto sommato è simpatico non dico lui come attore o il personaggio Fulvio Fulvio ha un design che non è brutto capito come anche il nano non ha una fascia orribile non è uno smostrato non è un vero freak si è solo un nano sono tutti i personaggi che sono freak per modo di dire ho capito mettiti i freak negli anni 40 cioè secondo me lui come freak ha voluto fare un parallelismo come gli emarginati le persone emarginate però scontato secondo me in questo caso perché è troppo facile il film è facile tra virgolette cioè non ha delle temati diciamo che tu dovresti per poter dire che come dire c'è una spinta verso il insomma c'è una volontà di spiegarti che anche le persone più sfigate quelle più mal viste dalla società in realtà sono per bene prima dovrebbero farti riveliare capito prima dovrebbero crearti una sensazione di disgusto di riparezzo mi viene in mente uno tra tutti l'elephant man di Lynch il design di Elephant Man è orribile orribile fa veramente schifo poi però guardi il film ed entri all'interno della psicologia del personaggio ti rendi conto di quanto è umano di quanto è più umano degli altri personaggi io non sono un grande amante di Lynch però quel film lì funziona benissimo proprio per questo motivo qui mi aspettavo mi aspettavo l'ho visto avrei voluto retrospettivamente qualcosa più in quella direzione cioè alla fine Matilde è una ragazza carina il nano comunque è un personaggio simpatico non c'è quel riflesso di come dire vista orribile che ti fa pensare che poi ci sia una giustizia nascosta ecco tu dal primo momento in cui incontri i personaggi stai già dalla loro parte non solo perché sono ma proprio perché sono costruiti in una maniera per essere piaccioni cioè per essere per essere apprezzati a me sta cosa è una fastidio cioè ripeto mi è piaciuto sembra che mi stia parlando male da dieci minuti però è una cosa che ritrovo in tantissimi film Disney ritrovo in tantissimi film della Marvel ti vendono per una cosa come dire per una giustificazione vera e sincera una cosa che in realtà è talmente immediata che è banale e inutile perché è chiaro che siamo tutti dalla parte di Dumbo quando guardiamo Dumbo capito è chiaro che staremo sempre dalla parte del più sfigato all'interno di un film è una cosa automatica anzi a me a sto punto mi viene da dire che è banale dire che l'ultimo della classe è quello più bravo quello più come dire per cui bisogna bisogna fare il tipo sta cosa ormai la vedo dappertutto in tutti i film non ce la faccio più infatti secondo me non è tanto il messaggio di per sé che come dici tu giustamente ormai è abusato stra abusato è come viene messo in scena e quanto complesso e sfaccettato riesce a essere questo underdog questo freak il punto è che questi personaggi non lo sono perché Fulvio è incazzato come una mina perennemente Castellitto è Totti negli anni 40 praticamente ed è irritante come Totti di oggi è uguale a Erpupone di oggi infatti non lo stimo per niente maestro maestro Matilde ok l'abbiamo già detto e il nano si masturba fondamentalmente basta queste sono le cose che ti ricordi dei personaggi Fulvio c'è un cazzo enorme quello è il cazzo enorme uscendo da questo film adesso mi è rivenuto in mente è stato proprio questo qui è un film della Disney che cerca di fare un po' il Tarantino però non ce la fa perché non c'è quello spirito come dire di infrangere quella volontà di infrangere le regole di perculare di divertirsi che trovi magari in un film di Tarantino è un film della Disney dove ah vabbè ma il film della Disney perché non sono belli è perché non c'è un minimo di trauma non ci sono delle scene violente no non è vero non sono brutti per quel film della Disney sono brutti perché sono banali da stuccare qualsiasi come dire gli occhi di qualsiasi cinefilo che si rispeglie non tutti i film della Disney certo non voglio generalizzare però diciamo che c'è una volontà commerciale che a me alla lunga mi ha rotto le palle sai cosa l'unico momento in cui ho trovato davvero coraggio ma coraggio vero e una voglia di farti sentire davvero l'orrore della guerra ma davvero tanto 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 e quando sparano al ragazzo con dei deficit mentali per usare il termine politically correct ragazzo con la sindrome di down si può dire quella parola si chiama così sindrome di down e non lo so se si può dire down su youtube è la sindrome di down è la malattia ok il ragazzo con la sindrome di down quando gli sparano in ghigna cioè quella è stata una scena quella è presa cioè quella lì è una delle poche scene che ho detto oh quella è il bombardamento iniziale e la fine quelle sono le parti secondo me tecnicamente registicamente più fighe anche quella non lo so non mi sembra quasi un compitino portato a termine da una persona con non voglio insultare il regista però secondo me è poco inventiva questa cosa qui questa scelta del ragazzino con la sindrome di down è scontato capito dire no questi sono stronzi perché hanno appena sparato al più debole della no ma sai perché secondo me è interessante perché in quel momento io me lo immagino come un regista che gioca con l'aspetto del pubblico nel senso in un film paraculo diciamo cosa sarebbe successo tu vedi il ragazzo con la sime di down che interviene vedi i nazisti che cominciano a trattarlo male lui che continua i nazisti che gli puntano il fucile stanno per sparargli e dopo il buono di turno o qualcun altro interviene e lo salva all'ultimo secondo il last minute rescue diciamo alla green fit solitamente ti aspetti questo solitamente in un film che non è coraggioso invece qua cazzo secondo me ti dà è il momento in cui gli spara cioè in cui effettivamente la miccia esplode secondo me è quella la cosa interessante il fatto che lui ti fa almeno io fino a quel momento dicevo ma no non gli sparano è impossibile ma no non gli sparano ma no non gli sparano ma no non gli sparano cazzo gli sparano davvero cioè quello che mi è piaciuto capisci che non pensavo riuscisse cioè andasse oltre è quello che mi ha fatto piacere cioè me lo ci vedo proprio il regista giocare con noi spettatori è quello che dicevamo prima di Edgar Wright no nel farti pensare che uno è il colpevole e dopo invece colpo di coda mi piace quando il regista ti tratta un po' come una marionetta e ti fa cadere nel suo gioco non so come dire capisci no no capisco benissimo il regista ho avuto un riflesso di volevo leggere qualche commento prima di fare magari delle conclusioni finale mi sembra giusto allora questa ce l'abbiamo detto Franz è patente i conflitti voleva solo fare il soldato la sequenza in cui stanno con il fratello stagliere dita in eccesso e favolosa nella sua tricità molto bello infatti quel personaggio lì molto bello molto bello quindi nessuna candidatura agli Oscar no perché l'Italia ha scelto come rappresentante che poi non si sa se andrà nella shortlist c'è tutta una selezione da parte dell'Academy a quanto pare ha scelto il film di Paolo Sorrentino che uscirà posso dire una cosa dal 20 in poi su Netflix questo dimostra come l'Italia sia un paese vecchio e un paese poco coraggioso un paese standard un paese quadrato perché un paese coraggioso intelligente vedi la Francia propone Titan noi proponiamo è stata è stata è stata la mano di Dio come cazzo si chiama quello di Sorrentino e io non sto giudicando io non sto giudicando il film perché non l'ho visto quindi magari è un capolavoro quello di Sorrentino è il messaggio che tu mandi è il tipo di film che tu scegli come rappresentante dell'Italia è un messaggio questo dimostra effettivamente in che cazzo di cultura cinematografica viviamo in Italia che tipo di formamenti sappiamo noi in Italia e di perché probabilmente non lo so avranno fatto le loro valutazioni poi non siamo in quei meccanismi ovviamente quindi poi chissà che cazzo si sono detti però io spero che a sto punto Sorrentino faccia la doppietta è buono sento tutti felici e contenti io ci conto in quel film perché a me la tematica interessa vediamo cosa succede lo so perché ti interessa vabbè scusa saranno cazzi miei no no saranno cazzi miei scusa allora poi comunque per fortuna in te ci sono film sui quali scannarci giusto che piacciono o no fanno discutere giusto dopo anni anni c'eravamo cinepanetto nei drammoni insulsi hai assolutamente ragione infatti io sono il primo che dice a me il film non è piaciuto però a chiunque me lo chiede gli dico andate a vederlo perché comunque c'è sempre qualcosa su cui discutere c'è un film interessante cioè oggettivamente è interessante è da vedere al cinema al cinema da vedere al cinema ma l'Adam proprietente l'ha visto quanto sì è sopravvalutato io non l'ho ancora visto e vabbè la bestemmia fa sempre ride ci sta ci sta no Walter White non bestemmi Walter White è un po' tagliato con l'accetta anche quello non è orribile comunque io sono curioso di vederlo per la tematica che tratta durò solo una ventina di minuti di troppa secondo me no a questo punto dato che l'ho buttata in cacciata l'ha tirata in cacciata fino in fondo porta pure una sega a me mi ha divertito mentre ha tenuto non li ho sentiti d'ora e venti dopo zero ho volato io letteralmente sul ritmo poi che sia troppo no ne abbiamo discusso fino adesso l'unica cosa che posso dire che erano troppi sono stati il quarto d'ora e non scherzo quarto d'ora di standing ovation finito il film ah un quarto d'ora infatti un quarto d'ora è stato così ah vabbè ma si vede che c'era il cast in zona e si sono applauditi dal sole visto che c'era no 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 c'era tutto no no esatto c'era duemila ho capito però che cojoni c'è ma la carmes lo fa a un certo punto io vedevo anche Santa Maria Rezza mi sembrava che dicesse oh grazie però avete rotto il cazzo nel senso andiamo via a quanto pare è uscita in discrezione che quando Bong Joon-ho ha presentato a Cannes Parasite che poi l'hanno fatto la standing ovation anche io non so di quanti minuti lui abbia detto quando finisce che ho fame per cui cioè ci sta che l'abbiano pensato te l'ho detto che ho incontrato Bong Joon-ho in ascensore te l'avevo detto Ale? gli hai dato un bacino? no non sono riuscito però l'ho fatto entrare prima nell'ascensore e ci siamo detto bye 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 basta abbiamo scambiato anche delle parole e gli sono stato a 30 centimetri di distanza dovevi passargli il link dell'UCP mi immagino lui coreano che vede in italiano però mettiamo tu avessi avuto il covid comunque passare il covid a Bong Joon-ho sarebbe stata un'ottima tanta roba solo io che ho ucciso quel genere come di Sica che c'è lo zio che ha ammazzato a Troschi esatto che poi era anche tipo con la moglie o con la compagna immagino quindi l'avrei mandato a tutte e due sarebbe stato bellissimo drammatico tipo Shakespeare una volta che ne usciti uno se c'è una cosa che insegna la Subaru Baraka devi ammazzare tutte le cose è rimasto senza marito non so ridendo e sterminando avete qualcosa da aggiungere sul film a parte le città Aldo Giovanni e Giacomo che sono doverose io niente io ho detto tutto quello che io ripeto comunque a me il film non è piaciuto però non posso dire che sia un brutto film cioè è un film molto interessante che ha delle parti molto belle molto ispirate ma è troppo anche esempio un altro esempio il bacio mentre volano con la luna in sottofondo sì troppo troppo sono d'accordo sì cringe cioè io l'ho detto anche a Niola io ho detto proprio Gabriele è cringe e a lui è piaciuto e ci sta io gli ho detto proprio sì è troppo cringe è cringe non c'è un cazzo da fare è inutile come ha fatto a piacerti bestemmia in fondo eh? no no io bestemmia si faccia al proprio quando atterrano quando atterrano hanno fatto un volo di 300 metri cascano dentro un paio nel fieno nel fieno esatto il lanetto che atterra nel fango e non si fa niente infatti io con un mio amico con un mio amico quella scena l'abbiamo chiamata il cannone della fede l'abbiamo chiamata è letteralmente il cannone della fede sembra la mossa di junior eh beh il cannone della fede sì 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 assolutamente sembra anche uno spinello che si fumerebbe il pazzo però però poi ti chiedono come fai a vedere la madonna il cannone della fede ma io mi immagino poverino magari il povero contadino che ragazzo che stava portando le pecorelle vede questi due che volano sulla linea che guarda e fa oh ma che cazzo e magari c'ha il papà dietro guarda ho visto due persone e lui dice continuiamo a pascolare le pecore che ci abbiano da lavorare l'immagino proprio bellissimo e invece te Ale hai qualcosa a dire sul film o no più o meno più o meno ripeto quello che è già stato detto sono contento che sia uscito al cinema spero che la gente lo vada a vedere in flotte ma non mi ha convinto fino in fondo e ha delle cose che secondo me sono state gestite male non ci sono momenti che potevano funzionare molto meglio anche semplicemente con una scelta di regia diversa sulla carta ci sono tante cose che dovrebbero funzionare che in un'altra situazione mi avrebbero fatto dire che bella scena che bella cosa che bella trovata narrativa però secondo me non hanno in questo caso non ha avuto una capacità espressiva adeguata secondo me il regista o chi ha deciso di mettere in scena le vicissitudini della trama anche lì la scena del down del ragazzo con la sindrome di down ti dissociamo in caso in caso poteva funzionare molto bene secondo me è un po' buttata là cioè si il tuo cervello ti dice ah questa scena qui mi suggerisce insomma un trauma una come dire una disumanità spaventosa però è buttata lì cioè non lo so tantissime cose forse c'è troppa roba e non si alla fine non riesce a portarne a casa non riesce a portare a casa la maggioranza delle scene secondo me un previsto emotivo come cantava il maestro giovanotti cantava di dieci cose fatte me ne è riuscita mezza diceva il maestro il maestro in Italia ha già tante roba esatto a voglia a voglia per me è un ottimo film no è un bel film è un buon film che rivedrei volentieri il blu ray me l'ha accatto sicuro e lo rivedrò perché a me a me ha non so mi ha gasato in alcune scene in altre mi ha fatto dire anche a me che è cringe tipo la scena del bacio è un po' troppo secondo me la scena all'X-Man non mi è piaciuta particolarmente però alla fine è un buon prodotto si fa apprezzare si fa divertire nonostante tutti i difetti quindi per me il film è riuscito nelle intenzioni a livello veramente commerciale almeno in Italia flopperà un pochino cioè no flopperà poi speriamo ci sia l'effetto gigobo ma non credo che questo film lo avrà però io spero vada bene all'estero e che comunque Gabriele Mainetti continui nella sua adesso a cavalcata ci porti comunque sempre prodotti almeno diversi dalla media diversi dal canone a cui siamo abituati magari con un po' meno budget che così sta anche più tranquillo lui stesso credo anche che non deve essere facile gestire tutto quel po' di roba che poi non lo gestisce da solo però è comunque la responsabilità che faccia comunque altri film perché a me lui come come cineasta piace sì e va a prezzo sicuramente più di molti altri che fanno molti altri film che sono delle merda assolutamente sì sì se dovessimo benvengano i Mainetti se dovessimo avere tutti i Mainetti in Italia io non sarei contento di più voglio essere chiaro che questo è ovviamente non mi è piaciuto il suo film ma la mia stima per lui è rimasta assolutamente intatta e la mia fiducia in lui è rimasta intatta ci mancherebbe altro vediamo speriamo che non lo blocchino c'è anche da dire che lui è produttore di se stesso quindi penso che abbia spesso la forza di dire andate a fare in culo certo dipende dai progetti che vuole sviluppare se chiede 100 milioni da solo non ce la può fare ovviamente impossibile vediamo e speriamo così speriamo e spariamo esatto no non siamo in Texas si dissociano dalla violenza non so